bene trovati a un nuovo appuntamento con quale zampa questa sera parliamo della cuccia del cane per quanto ha domesticato sia il cane sicuramente più felice se passa parte del proprio tempo o addirittura vive in un giardino quindi all'aria aperta a contatto con la natura e la cuccia è sicuramente la propria casa quindi la casa che il cane può utilizzare nei momenti in cui deve ripararsi dal freddo oppure da eccessivo calore quindi dal sole ricordate che la cuccia innanzitutto deve essere dimensionata secondo il cane quindi la taglia del vostro amico se acquistate un cucciolo calcolate bene le dimensioni che può raggiungere il vostro cucciolo in modo da acquistare una cuccia che sarà adatta alle dimensioni da adulto un'altra cosa importante è che la cuccia sia sollevata da terra in modo che sia un pochino isolata dal terreno e non sia un ambiente troppo umido per il cane un altro accorgimento è che la cuccia sia smontabile questo vi facilita le operazioni di pulizia anche perché spesso e volentieri andrebbe pulita disinfettata e soprattutto anche fatto un trattamento contro pulci e zecche all'interno della cuccia ricordatevi che il materiale coibentato è sicuramente migliore di un materiale che trasmette calore o freddo e un'altra cosa molto importante nei momenti in cui fa più freddo sarebbe opportuno mettere una piccola tendina all'ingresso dove il cane può entrare e uscire ma ripara almeno in parte i venti freddi o gli schizzi di acqua che possono disturbare il cane mentre dorme questi sono piccoli consigli ma importanti per una vita del cane all'aperto in modo che possiate acquistare oppure costruire una cuccia adatta che garantisca quindi una buona sopravvivenza e una buona salute al vostro amico cagnolino arrivederci a settimana prossimo con un nuovo appuntamento